Ci siamo, ci siamo. Marty ama Aaron. È bellissimo. Marie ama William. Quale dei due esiste veramente? Perché se io mi rendessi conto di quale vita non è reale, il sogno non funzionerebbe. Sono geloso. Sto diventando pazzo per un tipo che neanche esiste. Tutte e due le vite hanno lo stesso valore. Io non so quale delle due appartenga al sogno e quale è alla realtà. Demi Moore e Demi Moore. Passion of Mind. Due sogni d'amore. Una sola verità.